Buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento in diretta che come ormai abitudine precede il telegiornale delle 13 e 20. Siamo in compagnia dell'assessore comunale della cultura Giorgio Rossi che ringrazio per essere venuto a trovarci andando a San Giusto perché so che l'abbiamo per un evento che faremo probabilmente quest'estate. Buongiorno a tutti. Parlando non tanto di eventi ma di mostre e dell'attività culturale in città ci sono già i primi numeri più che, anzi non incoraggianti, numeri molto buoni, più che buoni per quanto concerne la mostra sugli impressionisti. La mostra sugli impressionisti è stata inaugurata circa un paio di settimane fa e ha fatto 6 mila visitatori, direi un inizio promettente. contemporaneamente domenica si è chiusa quella sui videogiochi al Salone degli Incanti che ha fatto 22 mila, 23 mila visitatori. Anche un ottimo risultato perché indubbiamente era una mostra di nicchia, interesse soprattutto per le fasce giovanili, magari non solo però. è una cosa carina che con soprattutto la Cracking Art chiude a questo periodo in cui abbiamo avuto anche i limiti causati dalla pandemia di accesso ai nostri contenitori. Quindi apriamo la mostra degli impressionisti di Morelli impressionisti con grande speranza anche perché quello che è successo negli ultimi 3-4 anni è stata un po' la semina su quelle che sono le idee che sono venute per il futuro soprattutto della città come investimento non solo culturale ma anche turistico. Adesso si apre una nuova scena, un nuovo programma di mostre, evidentemente come abbiamo detto molte volte, le mostre non è che si ordenano al telefono, guarda che ho un buco in Salone degli Incanti o il Museo della Voltella di 3-4 mesi e me lo organizzi, ma hanno una lunga gestazione. Ma cosa è importante? Che al di là di quelli che sono gli obiettivi nostri, in particolare lo diciamo senza scandalizzare nessuno e con la speranza che questo sia veri, io voglio portare Van Gogh qua a Trieste perché è una mostra di altissimo livello rispetto a Monec che è già di alto livello, che ha un costo importante, ma soprattutto vogliamo fare una programmazione almeno per i prossimi 2-3 anni, fino al 2025. Questa programmazione è necessaria primo perché fermiamo grandi mostre, cose importanti che vanno in giro per il mondo in cui si spera anche di fare dei numeri importanti e la seconda perché indubbiamente la programmazione è una parola che è di difficile applicazione, ma non solo nel pubblico, anche nel privato, in questo caso nell'ambito di quelli che sono gli eventi culturali è fondamentale, fondamentale perché? Perché è evidente che bisogna annunciare queste cose in tempi utili per fare marketing, per la città, per far conoscere le persone che magari nel 2023 faremo delle cose importanti che si preparino ad organizzare magari un viaggio e una permanenza. Tutto è strettamente legato a un filo che è anche un aspetto di carattere economico, diciamocelo chiaramente, con l'aspetto turistico. Quindi mi sembra che stiamo andando bene, i numeri sono promettenti, certamente la mostra Monè e gli impressionisti fa un passo avanti rispetto alle altre mostre, fatto salvo quello che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la mostra di Ascher, che mi è rimasta un po' che mi è rimasta sul gozzo, ma prima di andare via, adesso manca qualche anni, chissà che noi la riproponiamo. Senta Assessore, domani tra l'altro viene presentata invece una mostra che si terrà a partire dalla prima settimana di marzo al magazzino 26 ed è una mostra su Saffaro, un artista molto particolare, mi pare che era medico anche oltre che artista. Fisico, matematico, c'è fisico e matematico e aveva questa peculiarità di essere oltre appunto uno scienziato, va bene, anche un pittore, un artista. È una mostra che andremo a fare nel magazzino 26, sono orgoglioso di questo perché tre sono i poli sulle quali noi abbiamo fatto gli investimenti. Il museo Revoltella che al di là dell'aspetto della mostra di Manè è stato un po' rivoluzionato, i mille metri quadrati della sala scarpa del piano Terra sono stati riqualificati per accogliere la mostra e anche quelle che verranno dopo Moren. Quindi quello è un investimento già stabilito qualche anno fa. Il Salone degli Incanti si presenta da solo nella sua magnificenza e come ben sapete tra qualche settimana inizieremo la mostra su Frida Kahlo, che è una mostra molto attesa, va bene, e poi abbiamo il magazzino 26 con le tre sale espositive. In una c'è Tonin Zanussi, un bravissimo pittore friulano, abbastanza conosciuto, ma la mostra che andremo adesso ad organizzare di Saffaro è certamente qualche cosa di eccezionale. Non lo dico io, lo dicono gli esperti, quelli che conoscono il pittore, un pittore molto particolare, un po' metafisico, un po' astratto, ma insomma saranno gli esperti a giudicare, sulla quale contiamo molto. Perché contiamo molto? Perché significa che il luogo, il magazzino 26, si fa conoscere. Questo è un elemento fondamentale perché, come abbiamo detto più volte, si sta conoscendo la città e vedo che negli ultimi tempi vengono da sole richieste da parte di organizzatori, di quelli che ci lavorano sopra per presentare mostre di alto livello. Ecco, c'è poi anche questo, ne discutevamo prima di andare in onda, la possibilità di avere mostre più o meno grandi, di dimensioni più grandi, più piccole, medie, contemporaneamente. Beh, ha detto una cosa molto importante perché fino a qualche anno fa ti confesso che trovavo un po' di difficoltà a far digerire questo aspetto, che è Trieste, siamo una metropoli e oggi i punti cardinali dell'arte e della cultura sono indubbiamente Roma, Milano, Firenze, queste cose qui. Siamo una città di media portata, per quello che è il numero di abitanti, ma di grande prospettiva, di grande avvenire, quindi noi dobbiamo investire su questo perché fare due o tre mostre contemporaneamente, adesso avremo Saffaro, Frida, Calo e Moneno, è una scelta straordinaria. Certamente uno che viene a Trieste, se vede che ha un'offerta per Monè, ci riflette, ma riviene un giorno o due giorni, ma se comincia a avere due o tre possibilità anche di scelte alternative è certamente più disponibile a venirci a trovare. Quindi non dobbiamo preoccuparci, evidentemente poi c'è l'aspetto economico nel quale dobbiamo mediare. Abbiamo trovato una soluzione che è quella di innanzitutto trovare degli investitori perché chi viene qui non può pensare che il costo di una mostra venga sostenuto totalmente dal Comune e quindi su questo deve fare un investimento, c'è un rischio imprenditoriale. Poi noi lasciamo che sbiglietti, se sbiglietti è in cassa siamo felici per lui e non siamo così nelle condizioni di dire ma quello ci ha guadagnato e noi no. No, noi ci guadagniamo in termini di immagine e quindi questa è una dei pilastri sulla quale abbiamo poggiato la nostra programmazione. La seconda è investimenti con anche coperture finanziarie a meno parziali con la tassa di soggiorno e questo c'è un stretto legame con la presenza dei turisti, di quelli che prenotano a cui diamo un coupon, un buono per andare a vedere la mostra gratuitamente nell'ambito di quello che è il costo del prenotamento negli alberghi che deve essere di almeno una o due noti. Allora parliamo di un altro argomento sul quale, confesso, non l'ho sentita intervenire ma probabilmente avrò anche un pochettino perso il conto. L'Ovovia, la Cabinovia anche. Sapevo che mi faceva questa, ma volevo anticipate. Ovovia, Cabinovia? Chiamiamola come vogliamo. Se uno mi fa una domanda su una materia che è così dibattuta, non complessa, le cose complesse sono altre, non è che è un dramma esistenziale dal punto di vista tecnologico fare una Cabinovia, ce ne sono ben altre di sfide tecnologiche, va bene. Mi trovo a dare questo tipo di risposta, ma è una risposta personale, quindi non è che io difendo né partiti né amministrazione, eccetera, ma siccome siamo liberi cittadini, lo dico così, da cittadino ma anche da tecnico, perché io di mestiere ho fatto questo nella mia vita. credo che innanzitutto la scelta di accogliere un finanziamento da 48 milioni non può essere rigettata, potremmo essere d'accordo, non essere d'accordo, ma ormai la scelta di accettare un contributo di questione è irreversibile, bisogna mettersi il cuore in pace, che facciamo? Torniamo in 48 milioni di Euro, c'è qualcuno che dice si può cambiare il progetto, eccetera. Io sono convinto che ormai la scelta è stata fatta, quindi su questa scelta va, diciamo così, va discussa l'opportunità sia in termini di quello che potrebbe essere il risultato finale di questa scelta, che a mio parere è sostanzialmente di carattere turistico, cioè è vero che arrivare a Opicina si sale, si scende con la bici e c'è una certa comodità e quindi è indiscutibile questo, ma credo che il core business dell'operazione sia turistico e per farlo ancora più mettere in evidenza bisogna arrivare a un posto panoramico, estremamente appetibile dal punto di vista paesaggistico e non ci sono dubbi che deve arrivare a Monte Grisa, potrà arrivare anche a Opicina, ma a Opicina deve andare a Monte Grisa, questo a mio parere è personale e poi lo si discute. Il terzo discorso è un discorso di gestione di questa linea di trasporto, la gestione in termini economici, ho visto dei numeri e indubbiamente bisogna, per sostenere in termini di sopportazione economica i costi, che sono un ciclo di 4 milioni di Euro all'anno, bisogna diversificare il biglietto, perché non possiamo pensare che questa copertura sia fatta da chi va su e giù con 1,35 Euro, ha portato come vai con l'autobus, quindi noi dovremmo far pagare ai turisti un sovrapprezzo sostanzioso, 5, 6, 7 Euro per andare su e giù, i residenti 1,35 Euro, solo in questo contesto io trovo che ci sia una copertura finanziaria, poi ognuno, i nostri tecnici, i politici potranno metterci del suo. La mia visione è questa, l'Ovovia è una bella cosa, futuristica, è utile, ma la sua caratterizzazione deve essere sostanzialmente di carattere e di indirizzo turistico. Connessi connessi, perché poi si arriva a Montegrisa, devi trovare un centro di accoglienza, del turismo, dei visitatori, un parcheggio, magari un albergo, o comunque un visitor center del Carso, come si parlava 20 anni fa quando io ho messo i primi piedi in comune. Carnevale quest'anno? Carnevale, ogni scherzo vale, lo scherzo ce l'ha fatto ancora il virus, perché è come ben potete immaginare, il carnevale che è stata una cosa su cui ho puntato molto per due anni, perché sogno ancora, ma lo faremo prima o dopo, questo carnevale internazionale, dopo aver parlato con Mungia, con le grandi città che lo fanno, perché no Savonia che fa un bellissimo carnevale, Mofalcone, ho parlato con gli amministratori di Mofalcone e anche con il nuovo sindaco Polidori, quindi abbiamo questa prospettiva di fare questo carnevale, per intanto ognuno se lo fa come può quest'anno, segue un attimo Mungia che qualche cosa farà, non so se lo farà d'estate, ma indubbiamente in questo momento no, però abbiamo così una bella prospettiva. Quest'anno sono i 30 anni in cui è stata fondata l'associazione che cura il carnevale, nata da mio amico Roberto De Gioia che ha fatto crescere questa sua creatura nell'arco di questi 30 anni con disponibilità finanziarie anche un po' precarie, difficili, però con grande entusiasmo le compagnie hanno prodotto qualche cosa, noi quest'anno cosa abbiamo voluto? Abbiamo voluto riconoscere questo sforzo, questo impegno delle compagnie di carnevale, abbiamo finanziato, stiamo finanziando perché devo portare in giunta, ma ci siamo impegnati, va bene, questa ricorrenza faranno e organizzeranno tutta una serie di feste nei vari rioni, quindi non faranno una sfilata generale per vari motivi, faremo anche in collaborazione una mostra di cosa è successo in questi 30 anni di carnevale, quindi daremo significato, quindi sarà un carnevale non in tono minore, ma un carnevale più sobrio, meno appariscente per le strade, per i motivi che sapete, preparandoci con tutto l'impegno anche finanziario, perché c'è una posta che abbiamo messo a disposizione con la tassa di soggiorno per fare questo magico carnevale 2023, a questo punto in cui io sogno una settimana di carnevale in Portovecchio con l'isposizione dei carri e quant'altro, dei laboratori per fare anche capire come si costruiscono i carri e quant'altro e alla fin fine questa straordinaria sfilata che dal Portovecchio, dal magazzino 26, passi lungo il porto, attraverso tutte le rive fino a arrivare in Campo Marzio, pensate che scenografia e che percorso avremo fronte mare e dobbiamo diventare un piccolo carnevale o un grande carnevale come Viareggio, oggi l'obiettivo del carnevale Tristino è di fare dei numeri, Muggia ha una grandissima capacità produttiva, una straordinaria tradizione carnevalesca, però nel bene e nel male più di X persone non stanno a Muggia per un problema di carattere evidentemente funzionale e di spazio e quindi noi vogliamo appunto portare queste compagnie che sono in giro per Friuli, ma anche perché no lungo il litorale, in Croazia, Slovenia, Austria, a Trieste o prima o dopo per dare un significato, questo non significa che andiamo ad occupare spazi e periodi in cui gli atti si fanno il carnevale, questo carnevale internazionale vorrebbe essere costruito con invito a un tempo, un periodo che potrebbe essere 3-4 settimane dopo il tradizionale carnevale che si fa ad esempio a Muggia o a Mofalcone. Assessore grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie a voi, siete sempre gentili, buona giornata a tutti. Ci fermiamo con la diretta, adesso un po' di pubblicità e poi il telegiornale delle 13 e 20, rimanete con noi, non andate via. Bene, molto grazie. Telespettatori, Telequattro, buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, questa mattina il comitato Noo Ovovia ha consegnato all'ufficio del protocollo comunale 840 firme, ne erano sufficienti 500 per validare il quesito referendario. Ora il municipio ha 30 giorni di tempo per dare il via libera al comitato che ha ricevuto l'ok, potrà far partire la raccolta delle 12 mila firme per indire il referendum. Le firme sono 840, raccolte per moduli, che sono stati regolarmente vidimati e autentificati dai raccoglitori e dalle persone, quindi siamo pronti a iniziare, con questo inizia la campagna referendaria. Ultimata la raccolta, oggi la consegna. Il comitato contro la cabinovia questa mattina ha depositato all'ufficio del protocollo le firme necessarie ad avviare il referendum e depositare il quesito, che ricordiamo essere. Volete voi che sia realizzato il progetto per la cabinovia Trieste-Porto Vecchio-Carso? Dopo questo passaggio il prossimo step è in capo al comune, che entro 30 giorni dovrà convocare la commissione prevista come da regolamento per l'ammissibilità del quesito. In caso di via libera il comitato avrà tre mesi di tempo per la raccolta delle 12 mila firme. Lo stesso comitato si muove con ottimismo, forte della partecipazione dei cittadini, che sabato hanno aderito in modo importante per le prime 500 sottoscrizioni, sorprendendo gli stessi promotori. Noi pensavamo che avessimo bisogno di due giorni di tempo, mentre in un'ora e mezza c'è stata un'affluenza che è continuata tutto il giorno, in tutti e tre punti, fino alle 16, come avevamo preannunciato. E confidiamo che non si ricorra a denigrare l'intelligenza delle persone, come ha fatto qualcuno sulla stampa, ma si rivaluti il potenziale e la voglia delle persone a partecipare su scelte che impattano fortemente sulla città. E si parli dei contenuti del progetto e il futuro di questa città, perché la sfida della sostenibilità non è di una parte, riguarda tutta la popolazione che risiede in questa città. Il progetto di riqualificazione della fiera di Trieste non si arena, ma riparte di slancio. Questo l'esito di un incontro stamani fra il sindaco Roberto Di Piazza e Arvin Hamacek, manager della Carinziana M.I.D., una società austriaca che eseguirà l'opera che prevede un centro commerciale, aree mediche e benessere un supermercato. Sentiamo un breve passo dell'intervista all'emissario austriaco. Stasera il servizio completo. Il signor sindaco ci ha detto che lui non interessava quanti progetti avevamo all'estero e in Italia, che la cosa più importante è Trieste, dove tra le altre cose abbiamo iniziato nel 2017. Adesso cercheremo di accelerare tutto il discorso. La prossima settimana Morena, cioè l'architetto Francesco Morena, presenterà il PAC. Noi nel frattempo cominciamo con le demolizioni, con la pulizia, e appena abbiamo il permesso di costruire faremo gli scavi e praticamente faremo la costruzione del centro commerciale. Il progetto rimane legato all'aspetto ludico e commerciale? Esatto, ludico e anche medico. E poi il classico centro commerciale, dove faremo dentro un bellissimo CONAT, da 6.000 metri quadri, più tutti gli altri negozi. Trieste, tra le città italiane in cui l'aumento dell'inflazione sta pesando di più. A gennaio gli incrementi dei prezzi più elevati si sono osservati a Bolzano, più 6,2%, Trento e Trieste, più 5,9% per entrambe, mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Milano, più 3,9% e Torino, più 3,8%. Il maggiore incremento a Trieste si registra alla voce, abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili. 10% in più su dicembre, 24,7% in più su gennaio 2021. Anche su prodotti alimentari e bevande alcoliche, invariate le voci abbigliamento e calzature, trasporti e istruzione. Arrestato dalla squadra mobile di Trieste per lo scippo ai danni di un'anziana, si scopre essere l'autore di una serie di episodi analoghi su cui la polizia stava indagando. Il 46enne triestino è appunto finito al coroneo. Uno scippatore seriale è stato arrestato dalla squadra mobile di Trieste. Dopo l'ultimo episodio in via di Barton, il 17 febbraio, il 46enne triestino è stato arrestato per il reato di furto con strappo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha strappato la borsetta ad una donna, guidando a bordo di un ciclomotore, risultato poi rubato, e dandosi poi alla fuga. Il soggetto, identificato in breve dagli agenti, è stato fermato poco dopo, mentre tentava di disfarsi della borsetta rubata in un cassonetto. Al suo interno c'era il portafogli e i documenti della mai capitata. Il pregiudicato ha poi confessato altri scippi con messi in città tra dicembre e febbraio. Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato tratto in arresto a disposizione della procura, mentre gli effetti personali facenti parte della refurtiva sono stati restituiti alla vittima, così come lo scooter prelevato in un'area di sosta di periferia, anche questo restituito al legittimo proprietario. Il commissario De Grassi ci aspetta dalla sala operativa della polizia locale. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti e a tutti. Che cosa ci racconta di questo martedì mattina? Ma intanto vedo subito una notizia per gli abitanti in zona, tra un po' la Cegas per problemi alla rete foniaria, chiuderà la via Ovidio, ci sarà uno scavo urgente e sarà impossibile elettropassarla. Non sappiamo esattamente in che punto, comunque ci sono dei preavvisi, della segnalità di preavviso sulla via, ripeto, sulla via Ovidio. Poi il resto, la mattinata è stata abbastanza tranquilla, per quanto riguarda anche le deviazioni di bus, il marito alla chiusura della via Navali, qualche incidente, ma come al solito per fortuna almeno niente di particolarmente grave. Il traffico era nella norma, la giornata per il momento è splendida, speriamo di continuare così. Per il momento non abbiamo anche grandi notizie per la giornata, però posso già anticiparvi che giovedì pomeriggio ci sarà un corteo. Ah sì, abbiamo già parlato, abbiamo il corteo giovedì pomeriggio, perciò già in anticipo le persone che non devono recarsi in città in quella giornata, bene sarebbe che evitassero di usare i veicoli. Per il resto non avrei altre cose. Grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Ha messo il punto sulla riqualificazione di stazioni e binari del porto programmati per i prossimi anni e i conseguenti traffici, nonché le opportunità che potrebbero scaturire per aziende del territorio e terminalisti. Entro il 2022 il collegamento dalla stazione di Aquilinia a Frieste, l'area industriale in regime di Punto Franco accanto alla Varsila. Nel 2023 binari operativi all'ex Aquila per collegare le banchine del nuovo terminal ungherese. Ci vorranno invece almeno due anni, ma i tempi potrebbero essere più lunghi, per far arrivare i convogli a Muggia, la quarta stazione del porto di Trieste, retrostante lo stabilimento della Barilla, che non nasconde il proprio interesse a traghettare i propri prodotti su ferro dalla Valle delle Noghere ai mercati dell'est Europa. Questa è la roadmap temporale dei lavori sul fronte ferroviario di uno scalo che ormai pensa e attrae traffici in base al binomio mare-ferrovia. I lavori in corso di RFI ad Aquilinia permetteranno entro l'anno la piena operatività su rotaia del sito di Sandor Ligo della Valle nel doppio senso di marcia. Da Frieste, peraltro, si pensa all'attivazione di una navetta per trasferire i container al Molo VII anche con nuove ipotesi merceologiche. Tra queste, come riferito dal presidente del porto Zeno D'Agostino, la possibilità di far arrivare treni di legname dall'Austria, scaricarli e riempire i container nel sito di Sandor Ligo e trasferirli tramite uno shuttle ferroviario al Molo VII, gestito da TMT, per poi andare all'export. Una navetta che, peraltro, potrebbe essere utilizzata in futuro anche dalla British American Tobacco per far arrivare la componentistica nei capannoni che sorgeranno nella stessa area. Quanto ai progetti a più lungo termine, oltre ai binari per il terminal multifunzione ungherese, c'è il completamento del sistema dei binari Sinamugia. Il pastificio Barilla, attraverso il direttore della logistica Gianluigi Mason, sentito dal sito specializzato Adriaports, spiega di puntare al trasporto su rotaia da Muggia all'est Europa. Per mettere in campo l'idea, salvo ricorrere temporaneamente al trasporto merci dalla fabbrica ad Aquilini a Via Tir, per poi passare su rotaia, occorre rimettere in sesto la quarta stazione del porto, un'opera per cui è stato avviato il progetto di fattibilità, che riguarda non solo i binari danneggiati dalle radici, ma anche la ristrutturazione delle gallerie di Aquilinia e Zaule, attualmente inagibili per cedimenti strutturali alle volte. Ci vorranno almeno due anni, premette Paolo Crescenzi, capo della direzione ferroviaria dell'autorità portuale per l'infrastruttura di proprietà della COSELAG, ex exit, che potrà comunque ricadere tra i progetti finanziabili con gli stanziamenti del PNRR. Sulla questione Russia-Ucraina c'è una dichiarazione del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Tutto dipenderà dalle conseguenze di eventuali sanzioni che l'Occidente errogerà nei confronti della Russia e viceversa. Agrusti, che ha definito la situazione inquietante, ha parlato di rischi potenziali estremamente elevati, tenuto conto che il nostro fabbisogno energetico, dice Agrusti, dipende per il 40% dalla Russia di Putin, di cui siamo in Europa il secondo esportatore più importante dopo la Germania. Già diversi mesi fa, chiude la nota di Agrusti, ho segnalato come le previsioni ottimistiche della crescita di quest'anno erano inverosimili in ragione dei segnali di fumo provenienti da Est che annunciavano una tempesta perfetta. L'allenatore dell'Allianz Trieste, Franco Ciani, ieri sera durante il Caffè dello Sport, ha parlato del momento attuale della squadra dopo l'addio di Juan Fernandez e del vuoto che quest'ultimo ha lasciato sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo della leadership. E su Conate Ciani ha analizzato il rendimento altalenante del giocatore che però ultimamente sta dimostrando notevoli miglioramenti. Non è una mancanza esclusivamente tecnica, uno dice trovi un playmaker, trovi una guardia, un tiratore, un difensore. È mancata l'anima degli ultimi anni, la personalità, il giocatore che aveva in mano le redini del gioco, che aveva insieme a Cavaliero, insieme ad altri giocatori storici in mano lo spogliatoio, è una leadership, è la presenza di un perno intorno al quale ruotava moltissimo. Oggi chiediamo a un ragazzo di 23 anni, alla prima esperienza da professionista, di andare a coprire quel ruolo. Glielo possiamo chiedere sotto il profilo tecnico e testare quanto la sua personalità potrà darci, ma è chiaro che poi dobbiamo ridistribuire magari alcune componenti emotive, oltre che tecniche, anche sul resto del gruppo, perché si è aperta una falla importante che dobbiamo assolutamente chiudere, sempre rispetto nell'affetto, ma anche con l'esigenza proprio tecnica di farlo quanto prima. Un messaggio che è arrivato poco fa, chiedeva Coach Ciani di parlare di Conate. Il ragazzo lavora tantissimo, è un ragazzo un po' particolare, è chiuso caratterialmente, è introverso, è sempre, adesso uso un termine che non è quello esatto, ma perché è un po' sospettoso, nel senso che le correzioni, i suggerimenti, le indicazioni, lui è sempre un po' sulla difensiva e ha un vissuto anche lui cestistico molto limitato ad alto livello. Il pre-campionato si è fatto vedere che parliamo di un giocatore con potenziali da Eurolega, perché quando gioca, gioca a un livello fisico e di aggressività e di atletismo inusuali. Ultimamente abbiamo notato dei segnali di miglioramento, dico di risveglio, ma comunque di maggiore presenza, e cerchiamo di portare avanti questo processo. Adesso, per fortuna, abbiamo alle sue spalle, nelle rotazioni, Delia, che è un giocatore invece di grande quadratura, di grande esperienza, di grande compostezza, e questo ci dà equilibrio. Però, insomma, questo tipo di giocate, di gonate, sono per noi fondamentali. Meteo in chiusura, dopo il passaggio del fronte freddo di quest'oggi, affluiranno forti correnti da nord-ovest in quota. Da domani pomeriggio tornerà a prevalere un promontore anticiclonico fino a venerdì. Per domani, dunque, si prevede cielo in genere sereno, poco nuvoloso, per il passaggio di qualche nube nel primo mattino. Vento moderato da nord in quota. È tutto, ci vediamo alle 17.30 con Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale. A più tardi, arrivederci. A più tardi. Grazie a tutti.